Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione questo trovate il link di affiliazione che vi rimanda alla home page del sito di Disney Plus se avete già intenzione di fare la prova gratuita di una settimana potete farlo usando questo link che vi riporta appunto alla home page, la fate normalmente e mi date un supporto senza spendere un euro semplicemente facendo la prova gratuita, vi ricordo che sempre in descrizione trovate il link personalizzato che vi rimanda invece al sito di Pampling dove trovate un sacco di magliette, felpe, scarpe, zaini, tutti i prodotti rigorosamente a tema nerd con delle stampe molto carine e se volete avere il 20% di sconto a fronte di un acquisto inferiore ai 50 euro potete usare il mio collice sconto VILASZLO se invece spendete più di 50 euro e volete il 25% di sconto usate il mio codice POWER25 infine vi ricordo che sempre in descrizione trovate il link per acquistare il mio libro I veri fantasmi in copia digitale a 2,99€ trovate anche il catalogo degli altri libri in digitale di Poliniani che è l'editoria per cui ho pubblicato I veri fantasmi quindi bando alle cianci iniziamo subito allora oggi voglio parlare di un argomento che avevo già trattato in un video di un paio di settimane fa ma è un po' più specifico e avevo accennato a questa problematica anche durante la recensione di The Invisible Man voglio tornarci sopra perché negli ultimi giorni la cosa si è un po' intensificata siamo in quarantena e teoricamente la fase 1 cosiddetta di questa situazione dovrebbe finire il 13 di aprile salvo posticipi però non è che dal 14 di aprile siamo tutti in giro tranquilli quindi la quarantena temo durerà ancora un po' staremo a vedere e anche quando potremo uscire non potremo tornare alla vita di tutti i giorni immediatamente naturalmente dovremo adattarci un po' a quello che sta accadendo finché la situazione non si risolve per cui le nostre vite non torneranno immediatamente alla normalità come erano prima di questo virus bisognerà ritornarci pian piano sarà un processo graduale ma sicuramente ce la faremo e ci lasceremo alle spalle questo brutto periodo ma perché lo sto dicendo? lo sto dicendo perché ovviamente non è che dopo la quarantena i cinema riapriranno tranquillamente secondo me prima che riaprano ci vorranno diversi mesi e perché si torna ad andare al cinema come una volta temo che se ne riparlerà almeno a settembre quello che potrebbe accadere prima è che cinema aprano con ingressi contingentati che significa che un po' come pochi giorni prima della quarantena come veniva fatto in alcune sale si vendano la metà dei biglietti cioè un posto sì e un posto no il che naturalmente non permetterebbe alle sale di guadagnare come prima ma sicuramente potrebbero recuperare qualcosa anche se non è detto perché sfortunatamente anche così io non penso che la cosa possa veramente funzionare in quanto non so quante persone vogliano rischiarsela per andare al cinema è una cosa che mi addolora io vorrei tornare in sala anche subito ma so che non si può fare e quindi cosa stanno facendo le case di produzione e di distribuzione? stanno iniziando a rilasciare i film previsti per l'uscita in sala online tramite download digitale su piattaforme come Cili, Rakuten TV e Zimilia ora io sono favorevole a questa cosa perché lo dico da un sacco di tempo secondo me prima o poi si arriverà ad una fruizione cinematografica che comprenda la sala e lo streaming quasi in contemporanea ma non credo che questo avverrà adesso quello che sta succedendo ha più a che fare con la situazione in atto siccome le sale sono chiuse allora si sta cercando di rendere il tutto più facile da vivere per cui onde evitare di perdere molti soldi posticipando ulteriormente i film alcune case di produzione e distribuzione hanno deciso di renderli subito disponibili non è la stessa cosa, lo so però comunque in questo periodo in cui si deve stare in casa e la situazione sta pesando sapere di potermi guardare un film che sarebbe dovuto uscire in casa comodamente sul divano in mancanza della sala è una cosa che mi rincuora ovviamente non è quello che vorrei fare io io vorrei andare in sala però non si può fare bene questo discorso l'avevo già fatto qual è il punto? il punto è un altro adesso si è creata la polemica sul costo costano troppo questi film faccio l'esempio di The Invisible Man o Emma che si trovano su certe piattaforme di download digitale a 16 euro circa 15,99 16 euro è troppo secondo alcuni ma dove vogliono andare? ma sono impazziti? ma figurati se io mi devo mettere a guardare il film a questo prezzo se fossi andato in sala l'avrei guardato alla metà ecco vi ricordate che io tempo fa in un video non dedicato avevo detto che i cinema si sarebbero dovuti organizzare con un servizio di streaming di emergenza per casi come questo in cui mettere per appunto in streaming il film a prezzo maggiorato ecco non è una iniziativa proposta dai cinema ma direttamente dalle produzioni e distribuzioni perché il prezzo maggiorato? perché non possono proporre il film a 9,99 come suggeriscono molti? i motivi sono principalmente due il primo è la pirateria perché nel momento in cui un film esce online legalmente ci sarà qualcuno che sfonda le varie protezioni e lo riesce a caricare online dopo poche ore il che significa che lo stesso film in alta qualità può essere reperito sul web illegalmente e puntualmente ci sono persone che lo fanno e io dico una cosa molti mi hanno detto eh ma io non posso permettermi questa cifra perché comunque la situazione è quella che è sono in cassa integrazione slash stato licenziato che è una situazione terrificante ovviamente io stesso ho iniziato a sentire gli effetti di questa cosa riguardo a certe collaborazioni fisse come un ballo però nonostante questo non vado a guardarmi illegalmente il film e sostanzialmente se non potete permettervi qualcosa io sono dell'idea che dovete aspettare il momento in cui potete permettervelo oppure che venga trasmesso oppure messo su una piattaforma di streaming gratuitamente perché e faccio ancora questo esempio che ho già proposto in questi giorni in varie live in cui sono stato ospite ma anche in una live che ho fatto con Rob un vicarob sul mio canale se voi passate davanti a una vetrina di un negozio di scarpe vedete un paio di sneaker che vi piacciono tantissimo non staccate un cubetto di porfido dal pavè e sfondate la vetrina rubandovi le scarpe dall'espositore no se non potete permettervelo aspettate magari il momento in cui potrete e a quel punto vi comprate le scarpe è la stessa identica cosa non è che solo perché si tratta di un film online allora siete autorizzati a andare lì e dire ma sì chi cazzo se ne frega me lo come me lo guardo perché le case di produzione e distribuzione hanno bisogno di noi del pubblico degli spettatori in questo momento se questi si mettono a inserire un dato film su una piattaforma di download digitale a pagamento e la gente lo pirata lo sta rubando non sta sostenendo quella major o comunque quella produzione che magari sta vivendo anche un momento non particolarmente felice proprio per via di quello che sta accadendo e quello che accade è che in sostanza non hanno il supporto economico da parte delle persone che dovrebbero guardare il film a pagamento e si aggrava la situazione già di per sé non proprio bellissima per cui io capisco il discorso i tempi sono duri per tutti però questo non ti legittima a andare a guardarti illegalmente il film io cerco sempre di dare supporto a ciò che guardo in passato se mi capitava di guardare una serie in streaming non legale poi compravo il cofanetto conoscivo poi mi abbonavo immediatamente a una piattaforma di streaming sulla quale veniva messa tempo dopo per dare un supporto perché lo faccio semplicemente per una questione di spoiler perché gli spoiler te li becchi in un attimo al giorno d'oggi con il web poi io non posso neanche dire beh non vado sul web o apro facebook per mesi non apro facebook per mesi così non mi becco di spoiler perché io ci lavoro con i social e gli spoiler me li beccherei in un secondo quindi sempre dare supporto comunque all'opera ok cioè io lì stavo parlando di prodotti che sarebbero poi arrivati in Italia mesi e mesi dopo però il supporto poi lo do non appena ho la la possibilità di farlo il motivo ulteriore per cui questi film costano così tanto è che se voi siete in quarantena con un amico vostra moglie barra marito o ragazza barra ragazzo o con la famiglia magari 3-4 persone in tutto se tutti si guardano il film il download costa comunque 15,99 euro questo significa che se siete in 4 a guardare il film non lo pagate 8,50 euro che è il costo medio di un biglietto poi ci sono cinema in cui si può pagare di meno o cinema in cui costa addirittura di più il prezzo varia per cui prendetevi anche conto è che devono mettere in conto questo devono innanzitutto tamponare le perdite derivanti dallo streaming illegale e ancora di più devono mettere in conto che magari lo guardano più persone con un solo download per cui costerebbe 16 euro invece di 32 o qualcosa in più euro rispetto alla visione collettiva in una sala dove ognuno deve pagare un biglietto che ha un certo costo per cui da quel punto di vista secondo me bisogna anche cercare di capire che bisogna supportare le case di produzione e distribuzione in questo periodo perché già non si possono supportare i cinema perché poi c'è anche stato del malcontento negli stati di america perché universal come dreamworks ha messo in download digitale trolls world tour il secondo capitolo di trolls e non hanno consultato fondamentalmente il consorzio delle sale e è stata pubblicata online questa lettera da parte di questo consorzio che era molto diciamo contrariato come tono aveva un tono molto contrariato nei confronti di questa decisione terminava con una frase del tipo non ci dimenticheremo di questa cosa il circuito AMC di cinema negli stati dimenti america non sta andando bene tant'è vero che in queste ore si sta parlando di un suo probabilmente acquisto ma dell'AMC in generale da parte di Amazon per cui la situazione è dura un po' per tutte le aziende che si occupano di intrattenimento e spettacolo a pagamento in questo momento i cinema sono purtroppo molto in crisi per cui non potendo dare un supporto diretto alle sale è importante dare un supporto alle major anche se secondo me major e sale dovrebbero mettersi d'accordo per cercare di avere un profitto in comune perché i cinema sono chiusi le major possono usare diciamo gli strumenti online ma alzano i prezzi quindi in qualche modo secondo me dovrebbero mettersi d'accordo magari per splittarsi i guadagni magari che ne so tu compri il film e quando i cinema riapriranno hai un buono uno sconto su un biglietto se io non sono un economista quindi non so bene quale potrebbe essere la formula però il problema grosso è che in tutta questa faccenda a essere escluse sono le sale con il collezionista in uno scorso facce di nerd mi pare due sabati fa si era parlato proprio di questo in un'altra leva ancora che avevo fatto sul canale Twitch Dr. Commodore il buon Roberto aveva detto che quando ci fu la spagnola negli anni fino anni 10 inizio anni 20 e 900 le sale erano in crisi che cosa accadde? che le grandi major avevano dopo che tutto era finito comprato le sale creando dei loro circuiti di cinema dove venivano proiettati principalmente i propri film questo era qualcosa di impensabile per l'epoca poi ovvio una cosa del genere oggi non sarebbe neanche fattibile in quello stesso modo ma per il semplice fatto che le regole dell'antitrust sono sicuramente più severe rispetto a quelle che potevano esserci di organi competenti in quell'epoca però quello che potrebbe salvare le sale è senza ombra di dubbio e sembra paradossale lo streaming in che modo nel senso che secondo me con delle convenzioni magari mandando un po' prima in download digitale o su qualche piattaforma in streaming film usciti in sala da poco si può iniziare a far ripartire tutto ovviamente io ripeto non essendo un economista non so di in che modo potrebbe avvenire ma secondo me un ruolo fondamentale potrebbe averlo lo streaming e si potrebbe anticipare quel discorso che avevo fatto tante volte io avevo detto che entro una quindicina di anni la fruizione sarebbe stata in contemporanea adesso non siamo ancora pronti ma può essere che prendendo spunto da questa situazione si crei una sorta di accordo tra le major e le sale quindi i cinema e gli esercenti per costruire un qualcosa che vada di pari passo non so bene a livello proprio economico in che modo ma sarebbe una cosa al momento impensabile per molti esattamente come lo era l'acquisto dei cinema da parte delle major all'epoca in cui c'era stata l'epidemia la pandemia di influenza spagnola per cui secondo me il costo non è troppo alto perché qualcuno ha detto ma bloodshot bloodshot costa solo 9,99 euro Victor perché hanno messo bloodshot a 9,99 euro e gli altri film a 16,99 euro è molto semplice bloodshot è un boccale di merda sciacquerella che tu bevi costretto tappandoti il naso quando inizi a guardare questo film perché dici cazzo l'ho pagato lo finisco ma nei primi dieci minuti ti viene voglia di appenderti piuttosto che continuare a guardarlo e se avessero messo bloodshot a 15,99 euro la gente si sarebbe armata di forconi e avrebbe violato la quarantena per andare a prendere i responsabili per cui cosa hanno detto già che film fa cacare sicuramente ci sarà un passaparola negativo che mezzo basta noi lo mettiamo a meno peraltro se non sbaglio non è neanche noleggio ma in acquisto addirittura in modo che ci rendiamo competitivi ma solo per quel motivo perché uno potrebbe dire ma scusate in sala non è che un film costa meno se è brutto sì in sala dove tu ricevi un servizio e dove i prezzi non li fa la produzione la distribuzione ma li fanno gli esercenti ok a loro in discrezione per cui per cui non se tu sei a casa in poltrona comodo mi fai pagare 16 euro un film di quel tipo sei fuori come un balcone sei veramente fuori come un balcone The Visible Man aveva i suoi difetti me l'ho pagato volentieri 16 euro perché mi ha divertito molto stessa cosa per M è comunque un film che volevo vedere li pago quei soldi Bloodshot è un film che se avessi pagato 16 euro mi sarei parecchio incazzato devo essere sincero a 9,99 diceva è una merda però ma ma sono contento comunque di averlo acquistato di aver dato una mano a Sony che non ha potuto mandarlo nelle sale poi è una porcheria mostruosa che non rende giustizia i fumetti della Valiant certo è orribile Vin Diesel ma non me ne fate parlare perché devo fare la recensione che come avrete notato non sarà esattamente rilassatissima per cui il prezzo secondo me sono giusti se consideriamo tutto quello che abbiamo detto finora è logico che se tu vuoi la comodità di vederti un film che dovrebbe essere uscito che avrebbe dovuto uscire in sala poco tempo fa direttamente col culo sul divano paghi questa comodità per cui ti dico ho capito però lo pago il doppio di un biglietto del cinema dove lì ho lo schermo di un certo tipo la poltroncina e tutto sì ho capito ma devi alzarti prendere la macchinina eccetera e quindi hai dei costi ulteriori che tu non metti in conto tu pensi solo al costo del biglietto il fatto che sia un po' di più è il fatto anche che tu ce l'hai subito immediatamente a casa tua poi io specifico ovvio che se dovesse esserci una sorta di semi contemporaneità per l'uscita dei film io non mi metterò mai a pensare ma sì quel film esce domani al cinema ma fa niente ma lo aspetto che arrivi in streaming non demanda no io vado alzo il culo e vado ben volentieri al cinema molto ben volentieri perché innanzitutto per me non c'è paragono io preferisco guardarmi i film in sala e poi perché la sala per me non deve morire e io la sosterrò sempre e la sala non morirà anzi se troveranno un modo che coinvolga lo streaming per salvare le sale e quant'altro per fare delle offerte delle convenzioni e la sala come luogo di aggregazione si salva da questa crisi ok io avrei due paroline da dire a tutti quelli che stanno condannando lo streaming dicendo che è quello che ucciderà la sala perché io sono sicuro che troveranno il modo di sfruttarlo che può sembrare paradossale ma in realtà i modi ci sono sicuramente per per magari anche fare arrivare prima certi film che erano stati dei mezzi flop creare come ho detto delle convenzioni del tipo che se guardi il film in un certo modo poi è lo sconto che è una cosa che fanno già concili ma in una maniera molto più mirata massiccia accordi con piattaforme di streaming e quant'altro e la sala non morirà per il semplice fatto che chi preferisce stare a casa che andare in sala è una persona che molto probabilmente in sala non ci sarebbe comunque andata a vedere quel film perché ci sono anche spettatori medi che certi film non se li guarderebbero mai in casa molte persone che se devono scegliere tra guardarsi che so un Avengers Endgame o un Avatar 2 in sala o a casa vanno in sala quelli che non vogliono andare in sala sono quelli che comunque non erano particolarmente interessati capito per cui secondo me ci saranno cose di questo tipo quindi il prezzo per quanto mi riguarda è commisurato è alto è sicuramente non bassissimo ma non è ingiusto cioè riconosco che sia un prezzo alto ma vuoi vedertelo con una certa comodità lì? è giusto così ed è anche giusto in questo momento supportare un Avengers non vuoi farlo non puoi farlo non sei obbligato non c'è nessuno con la pistola puntata alla testa che ti dice guarda il film comprala assolutamente no se uno non vuole non lo fa punto cioè è molto semplice questo quindi vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo argomento perché mi interessa molto il vostro pensiero io vi abbraccio questo è tanto ma tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo bui vlog